Se in caso riscontri problemi di crash su Call of Duty o problemi di frame lag o problemi di pre-scaricamento shader durante la partita e quindi si blocca anche tutto lo schermo e ti crash anche Call of Duty. In questo caso se tu stai usando anche una buona scheda grafica aspetta prima che finisca il pre-caricamento delle shader e poi inizi a giocare. In questo caso andiamo direttamente su Steam, andiamo direttamente sulla rotella gestisci, vai su proprietà e vai su generali, opzioni di avvio. Andiamo così ad avviare Call of Duty nella modalità DirectX 90 e in descrizione ti ho lasciato anche una pagina di supporto di Steam. Come puoi vedere ci sono molte righe in questo caso, tu puoi abilitare il gioco come vuoi, ad esempio fullscreen, finestra, puoi anche obbligare il motore di gioco ad avviarsi alla risoluzione impostata su larghezza. Quindi larghezza, altezza tipo 1920x1080, 1280x720, tutti inseriti qua sopra. Ovviamente quello che io uso è Trattino DX Level 90 e una volta fatto non mi resta che avviarlo e farti vedere quali sono le migliori impostazioni grafiche per non avere sempre problemi di crash, frame lag e problemi riguardo alle shader. Quindi non mi resta che avviare il gioco. Quindi in questo caso entriamo direttamente nelle impostazioni del gioco, vai direttamente su grafica. Ora abbiamo video, qualità e visuale. Iniziamo prima con il video. Solo per schermo intero, ovviamente per quelli che vogliono giocare a schermo intero vi consiglio di bloccare gli FPS attivando la virtualizzazione attiva. Perché sarebbe la virtualizzazione tipo il V-Sync e bisogna attivarlo se giochi a schermo intero. In questo caso se vuoi anche FPS illimitati ti consiglio schermo intero senza bordi. E facciamo applica impostazioni. Confermiamo, scendi fino a giù fino a trovare proporzione immagine, metti automatico, scendiamo fino a giù fino a trovare preimpostazione, modalità, eco. Questo qua ho messo basso consumo. Inseriamo così il basso consumo. Come ho detto il V-Sync. Se vuoi giocare a schermo intero e vuoi bloccare gli FPS metti attivo il V-Sync 100%. Se non lo vuoi metti direttamente no, tutti e due. Limite frame rate. Questo qua lo tengo su illimitato. Risoluzione rendering menu. Metto ottimale. Modalità focus lo tengo su 50. E fai applica impostazioni. Una volta applicato passiamo direttamente alla qualità video. Risoluzione resa grafica. Ed eccola qua. Questo qua è ottimo se lo tieni al massimo. Vedrai Call of Duty una meraviglia. Ben renderizzato anche da lontano quando vedi i giocatori. Quindi io lo tengo su 1920x1080 per non avere un sovraccarico sulla scheda video. E usare solamente 3.23 GB di V-RAM. Risoluzione dinamica. Metto no. Upscaling. Che sarebbe l'NVIDIA DLSS. Se hai una scheda grafica RTX di NVIDIA tipo serie 3000, 4000 oppure una 2060, 2080 a NVIDIA DLSS. Metti NVIDIA DLSS. Obiettivo Scala V-RAM lo tengo su 50. E ora passiamo direttamente alla parte più importante riguardo alla texture. Risoluzione texture. Mettila sul normale. Filtro texture. Mettilo sul normale. Scendi fino a giù fino a trovare risoluzione particelle. Molto bassa. Bassa. Poi per non parlare anche delle ombre. Le ombre invece lo tengo sempre su basso. Vedrai sempre le ombre sul gioco. Quindi anche le ombre dei nemici. Però non è che le vedrai più nitide, più renderizzate. Ma vedrai lo stesso le ombre. Mettendo sempre molto bassa. Metto tutto no. Poi da riflessi statici metto bassa. La tassellatura, questo qua, la tengo su no. E basta. Queste sono le impostazioni che io uso su Call of Duty per non avere problemi di crash, frame lag e anche riguardo anche al precaricamento delle shader, eccetera, eccetera. E faccio applico impostazioni e faccio conferma. E poi per il campo visivo lo tengo su 100. Campo visivo terza persona 90. La sfocatura, il movimento ovviamente. Questa dà veramente fastidio quando ti muovi destra e sinistra, muovi la visuale delle armi e ti esce anche la sfocatura. E dà anche molto fastidio. Metto no. E basta. Queste sono le migliori impostazioni che io uso su Call of Duty per non avere problemi di crash. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.